Benvenuti a Belli e Stani con la Medicina, l'appuntamento esclusivo di Radiobase che ci apre le porte al mondo della medicina estetica, svelandoci i trend del momento, lo fa grazie alla competenza, alla professionalità e all'esperienza del dottor Francesco Sacco, chirurgo maxilofacciale, dentista e medico estetico. Salve dottor Sacco. Buongiorno a tutti, salve, grazie di essere l'ospite vostro. Mi sei mancato, siamo ritornati alla grande con un nuovo appuntamento di Belli e Stani con la Medicina, protagonista assoluto di questa puntata, i fili di sospensione. Parliamo un po' della storia di questo prodotto della medicina estetica e come si è evoluto in primis. I fili di sospensione sono, è un dispositivo medico che è presente già in Italia da più di 15 anni. Ha una storia particolare perché è iniziato con i fili in PDO che è un materiale largamente utilizzato nella chirurgia per i punti di sutura per esempio, però aveva un'emivita molto breve, cioè parliamo di 4 mesi, 4 mesi e mezzo. Attualmente c'è stata un'evoluzione negli ultimi 5 anni con i fili perché sono stati prodotti dei nuovi fili in caprolattone rivestiti in acidoialuronico. Questo fa sì che la durata sia nettamente superiore, parliamo tra i 18 e i 24 mesi, garantendo quindi un risultato estetico al paziente e confortevole nel tempo. A proposito del risultato, a cosa servono quindi i fili di sospensione? Quando vengono richiesti e quando vengono utilizzati? I fili di sospensione rientrano nell'ambito di un percorso integrato per quanto riguarda il ripristino dei volumi del testacollo. Noi dobbiamo paragonare i fili di sospensione ai pilastri di un palazzo, cioè servono a dare la struttura del viso che purtroppo con il corso degli anni si è andata persa. Quindi con i fili noi risolleviamo determinati tessuti mantenendo così un aspetto più gradevole e più giovane. Una cosa che tengo a precisare è che impropriamente si dice lifting non chirurgico, più che altro per venire più incontro al paziente per fargli spiegargli un poco la cosa, ma in effetti il lifting è una cosa, il trattamento estetico con i fili un'altra. Significa rinfrescare il viso, dare una maggiore giovinezza però senza andare a essere così invasivi, traumatici come il lifting chirurgico, che ha precise indicazioni a differenza dei fili. E per quanto riguarda le zone interessate, quali possono essere? C'è differenza tra uomo e donna? Sì, allora i fili hanno un largo uso per tutto il corpo umano. Nel mio caso specifico il testa collo, quindi collo, mid face sarebbe il viso e le sopracciglia. Iniziando le sopracciglia attualmente va molto, c'è il trend che va fortissimo per quanto riguarda i famosi fox eyes. Sarebbe praticamente così? Esatto, è una tecnica di derivazione dell'est europeo che ha preso molto molto piede. Diciamo noi italiani l'abbiamo adattata a quelle che sono i gusti e la classe delle nostre donne. Lo charm, diciamolo pure. Quindi aumentando sicuramente lo sguardo, allungando il sopracciglio, ma senza cadere nelle esagerazioni che purtroppo vediamo nei paesi dell'estero. E invece per quanto riguarda c'è una differenza tra uomo e donna, proprio come esigenza collocativa? Ovviamente c'è uno zigomo molto pronunciato, per intenderci alla Sofia Loren è improponibile a un uomo. Dobbiamo tener conto ovviamente dei diametri trasversi e longitudinari del viso per dare la giusta importanza alla perdita di volume, quindi al ripristino funzionale. E per quanto a un po' di gossip, per quanto riguarda invece la richiesta uomo e donna, qual è la percentuale in proporzione? Attualmente siamo un 70 e 30. 70 uomo? No. 70 80 donna, ok. Però l'uomo sta aumentando progressivamente, c'è una maggiore consapevolezza del proprio aspetto fisico e quindi sta migliorando. E stiamo anche colmando il gap che c'è sta fra il sud e il nord, che normalmente il nord è già più avanti per certe cose e lo stiamo colmando progressivamente. Quindi ricapitolando, i fili di sospensione vanno semplicemente, semplicemente sembra riduttivo, però no, perché danno un effetto naturale rispetto, diciamo, a un primo passo. Hai detto bene semplicemente, perché non è una tecnica complessa, cioè non richiede un downtown successivo molto elevato, per cui il paziente poi era costretto a stare giorni a casa per riposo. Il paziente può addirittura la sera stessa uscita senza problemi. Perché? Perché l'invasività è estremamente limitata. Si tratta di quattro punti precisi. Esatto. Tecnicamente come funziona? Allora per diamine usiamo il mid face, cioè il viso. Vogliamo tirare sugli zigomi e tirare giù, diciamo, squadrare la mandibola. Saranno due punti di inserzione, uno sull'arcata zigomatica e un altro all'altezza del lobo dell'orecchio. Ok. Da lì vengono inseriti i fili con una piccola anestesia locale che permetterà a questo filo che ha delle piccole barbette di aderire ai tessuti e quindi stirarli verso la parte che noi desideriamo. La cosa fondamentale è che è assolutamente in dolore, perché non utilizziamo aghi, ma delle cannule smusse. Queste cannule smusse scollano i tessuti senza creare delle lesioni, quindi non dando la percezione del dolore al paziente. E questa è una cosa davvero positiva, è una bella notizia, perché spesso quando parliamo di, pensiamo anche erroneamente, di medicina estetica, pensiamo a qualcosa che ci provochi anche per dieci minuti. Insomma, il detto, chi bella vuole apparire un po' deve soffrire. In questo senso non è così. Non è così. Infatti questa è l'evoluzione della medicina estetica che io ho presentato nel congresso europeo del Colchida a luglio. ormai riusciamo a poter gestire gran parte dei prodotti mediante cannula, dalla biostimolazione al fil, ai fili di sospensione. Questo fa sì che riduciamo di gran lunga il numero dei buchi fatti con gli aghi e quindi andiamo con un materiale smusso che impedisce la formazione di ematome, chimosi e dolore. Questa è una cosa molto molto bella. Diciamo che nell'80-90% dei casi riusciamo a fare così. Quindi si può uscire direttamente e tutti ci vedranno più belle e più belli, ma capiranno e non capiranno il perché, insomma. Perché è un... È molto importante fare in modo che il paziente non esca stravolto dai nostri studi, ma esca semplicemente esaltando quelli che sono i punti belli da evidenziare. Quindi valorizzare, questo è il motto della medicina estetica. Sicuramente. Mentre per quanto riguarda la preparazione, c'è un tipo di preparazione da fare per preparare i tessuti, per far sì che si svolga tutto in maniera, diciamo, corretta, liscia e che quindi la pelle sia già pronta? Ecco, torniamo al discorso che avevamo detto all'inizio della nostra conversazione, cioè un percorso integrato. Nel momento in cui noi vogliamo preparare i pilastri, dobbiamo avere le fondamenta del nostro palazzo. Allora, quando io devo trazionare dei tessuti, devo far sì che non ci sia un muscolo che si opponga a questo. Allora, in questi casi è indicato un trattamento preventivo in Botox. Per esempio, per essere chiari, se vogliamo tirare su un sopracciglio e tirare del Fox Ice, sicuramente verrà un risultato migliore qualora il muscolo frontale sia stato già rilassato mediante trattamento con tossina botulinica effettuato un 15 giorni prima. Quindi mi darà modo di poter essere più preciso nel poter svolgere queste azioni di aumento dello sguardo della paziente. Quindi l'intervento con i fili di sospensione sarà praticamente potenziato dall'effetto del Botox? Esatto, in questo caso. Poi comunque ci sarà da prendere in considerazione di evidenziare quelle perdite di volume che non è possibile fare semplicemente con il fil, ma ci sarà l'ausilio del filler. Cos'è il filler? È un aumento di acido ialluronico perso dal paziente con il grasso che purtroppo si è disidratato nel corso dei decenni e quindi una volta inserito il filo, abbiamo sostenuto i tessuti, diamo le rotondità che mancano mediante l'introduzione dei filler. È un po' il discorso del palloncino. I nostri palloncini quanto si sgonfia, mettono in evidenza delle grinze che sarebbero le nostre rughe. Nel momento in cui noi riempiamo il palloncino, diventa di nuovo tesa la nostra cute e ha un aspetto più florido e più giovane. Perfetto, una puntata davvero interessantissima. E allora noi vi diamo nel frattempo appuntamento alla prossima puntata di Belli e Sani con la Medicina, il lunedì alle 10.45 in FM, mentre alle 12 su Facebook. E nel frattempo, dottore, a questo punto diamo i riferimenti. Dove trovarti? Io a Salerno, in via Rocco Caldia 18. Ok, perfetto. Allora ringraziamo il dottor Francesco Sacco per essere stato con noi e da averci aperto le porte del mondo dorato della medicina estetica. Grazie per essere stati con noi. Grazie sempre a te.